Si è riunito in prefettura il tavolo per la sicurezza richiesto dal sindaco Gian Guido D'Alberto per favorire la forza sinergica delle forze dell'ordine volto a coordinare azioni di dissuasione e di ferma opposizione agli atti di vandalismo e microcriminalità. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di fare il punto della situazione del territorio nel quale si sono registrati diversi episodi che hanno suscitato preoccupazione crescente tra la popolazione. Abbiamo una situazione che stava dando forse la percezione all'esterno di essere un po' fuori controllo in realtà nell'incontro di ieri è stato chiarito che la situazione è pienamente sotto controllo tra l'altro anche con una risposta immediata rispetto agli atti di vandalismo che si stavano susseguendo sul nostro territorio e soprattutto questo tavolo permanente ha condiviso il percorso e la linea che l'amministrazione sta mettendo in campo con il potenziamento del sistema di videosorveglianza che da troppo tempo sta mostrando i segni del tempo e il potenziamento della pubblica illuminazione. Ma noi abbiamo per quanto riguarda la videosorveglianza due possibili canali una convenzione Consip che abbiamo recuperato e il progetto Paride, l'implementazione del progetto Paride. Stiamo studiando con i tecnici qual è la soluzione più efficiente ma soprattutto la più rapida perché l'esigenza è proprio quella di dare una risposta immediata. È quello che abbiamo detto ieri ma che abbiamo già detto nelle scorse settimane soprattutto in luoghi sensibili che oggi sono ad alto tasso di vulnerabilità pensiamo alle zone di spopolamento del nostro territorio, alcuni luoghi particolari rispetto ai quali però è necessario anche un potenziamento del sistema di pubblica illuminazione. Ovviamente a marzo con l'approvazione del bilancio avremo anche la previsione delle risorse destinate a questi interventi che quindi libereranno l'azione amministrativa per raggiungere finalmente questi obiettivi a tutelare il nostro territorio.